Benvenuti e benvenute, benvenuta soprattutto a Monica Perosino che conoscete, è una ottima collega giornalista della stampa, siamo un collega, io mi chiamo Simonetta Scendivaci, sono anch'io una giornalista della stampa da meno tempo di Monica e stasera parliamo del suo libro che è questo qua, La neve di Mariupolio, ve la faccio vedere ed è un, tu me l'avevi venduto come il tuo passaggio alla narrativa, non lo so se è un libro di narrativa, secondo me è un'opera invece di giornalismo, di un racconto diverso della guerra, Monica lo sapete, l'avrete seguita, ne ha scritto anche molto per la stampa, è stata in Ucraina, era in Ucraina quando prima ancora che la guerra cominciasse ed era in Ucraina quando la guerra è cominciata, anche se tutti non ci credevano, lei lo racconta bene in questo libro, quel momento preciso lì. Ora, delle tante cose che ci diremo stasera, peraltro vi invitiamo a intervenire prima, dopo, durante, non temiamo le interruzioni. Delle tante cose che ci diremo, quello che io vorrei dire in premessa e sono il paio di cose che mi hanno molto colpita di questo libro. La prima è che mi ha immediatamente fatto pensare a Parla una donna, che è un libro di Matilde Serau, io sono pazza di Matilde Serau, è un mio grande amore, perché in quel libro Matilde Serau racconta la guerra ed è quella che secondo me è una delle prime a raccontare, la prima guerra mondiale, un po' come hai fatto tu Monica, cioè raccontando che cosa succede tra le persone, allontanandosi un po' dal racconto geopolitico, dal racconto dei fatti, ma raccontando come i fatti si insinuano nelle famiglie, nelle case. E poi c'è un altro fatto importante di questo libro che mi ha fatto ricordare che all'inizio la guerra in Ucraina ci ha posto una domanda importante, perché è stata quel fatto importante e lo è ancora secondo me, e cioè chi siamo? Che cos'è l'Occidente? Credo che tra le tante cose che ci sono in ballo in questo conflitto che è una guerra mondiale, secondo me Papa Francesco ha ragione quando la definisce la terza guerra mondiale, è un conflitto che ci costringe a fare i conti con quello che è l'Occidente, con tutto quello che dell'Occidente abbiamo messo in crisi e lo fa perché, ve lo ricorderete senz'altro, nelle prime settimane di quel conflitto una cosa è stata certa e cioè che l'Europa era qualcosa di forte, certo è in crisi, questa guerra non ha risolto, diciamo pur avendo rafforzato quell'idea, avendoci ricordato quanto è importante l'Europa e quanto è importante l'Occidente, non ha risolto poi, diciamo, le sue, non ha riempito le sue crepe e però ce l'ha messo davanti che quella cosa esisteva, che forse l'Europa e più in generale l'Occidente potevano arginare, possono, questo te lo chiedo immediatamente, forse possono essere un freno a quello che succede e finisco, ti metto qui tutte queste cose sconnesse, soprattutto se parliamo di Occidente guardando a quella guerra, Monica, il punto è che cosa ne è della Russia, noi ci possiamo pensare perché questo c'è tanto in questo libro, qui c'è Monica che cammina per strada, che parla con le persone, che parla soprattutto con le donne e si chiede che fine ha fatto la Russia che mi ha cresciuta, la Russia che ho amato, che ho conosciuto dai libri, ecco quella Russia lì possiamo pensare che nel nuovo Occidente che dovremo costruire dovremmo ideare e qualcosa di cui possiamo fare a meno? Ciao, ciao, buonasera a tutti, lascerei parlare Simonetta per ore perché è una magliatrice e starei ad ascoltarti per ore, potrei farla fare in effetti, andare avanti, no comunque parto dall'ultima domanda, cioè da questa Russia che credo abbia cresciuto molti di noi nel solco della letteratura, della fascinazione anche delle betulle, dei paesaggi nevati, la transiberiana, Dostoievski, Tolstoi e a un anno e tre mesi da questa guerra, dopo questa perdita dell'innocenza rispetto a una Russia che non è solo le betulle, Dostoievski, Tolstoi ma è anche Vladimir Putin, secondo me l'errore che non dobbiamo permetterci assolutamente di commettere è di lasciarli soli, cioè lasciare soli i russi normali, i russi come noi, i russi che stanno in qualche modo, a loro modo con gli strumenti che hanno a disposizione che in questo momento dopo anni e anni di dittatura sono sempre più limitati, stanno comunque cercando di reagire e anche di sopravvivere. Tu hai scomodato Matilde, io scomodo Svetlana Alexievich con premio Nobel che è un mio grande mito, premio Nobel per la letteratura, lei è una giornalista bielorussa, nei suoi libri ne ha scritti molti, ha raccontato la guerra in una forma molto particolare, lei è una giornalista però ha una qualità narrativa impressionante, sia brutale che dolce e il grande lavoro che ha fatto lei è farci guardare l'odio, ovvero farci guardare quello che succede durante una guerra, ricollegandoci anche il fatto di non abbandonare i russi e non abbandonare neanche gli ucraini ovviamente perché quelli che la stanno subendo comunque in fin dei conti sono gli ucraini che qualcuno voglia un po' ribaltare il piano e tornando a Svetlana Alexievich, il suo intento, mi dispiace scomodare questi miti sacri della letteratura, del giornalismo, di tutto, è scrivere qualcosa che racconti la guerra per quello che è davvero, ovvero delle persone, cioè delle persone che la subiscono, che sia giusto o sbagliato, cioè c'è la verità geopolitica che è una verità molto difficile da interpretare e molto temporanea e molto manipolabile, la verità vera, quella che è solida, quella che non si può assolutamente ignorare è che ci sono persone che soffrono di un dolore anche intellettuale, anche culturale, non solo fisico, indicibile. Lei, i suoi libri hanno sempre avuto questa aspirazione e io condivido con lei solo la medesima aspirazione e tutto il resto purtroppo no, è di scrivere per far generare un disgusto talmente profondo, un dolore, un raccapriccio talmente forte in modo da crearci degli anticorpi ed evitare, fare in modo di creare società politici, classi dirigenti, politiche ma non solo, anche economiche, che trovino un po' un antidoto all'esito sul terreno, all'esito dei cannoni, all'esito della violenza, perché probabilmente quello che manca soprattutto a noi che abbiamo vissuto in tempo di super pace, di super benessere, dico super proprio perché è anche sopra e la guerra l'abbiamo conosciuta attraverso magari ricordi dei nonni, di chi ha combattuto sulle montagne, di chi invece l'ha subita come civile, abbiamo un po' perso il senso di cosa vuol dire essere dentro una guerra ed è pericolosissimo perché siamo ormai quasi, la guardiamo quasi alla televisione, vediamo questi spot, dico spot, era un lapsus ma non lo è proprio, di cinque minuti, anzi di tre minuti in cui si vedono delle azioni molto scenografiche, adrenaliniche, gente che spara, gente che magari piange, feriti, molto veloce eccetera, la guerra è esattamente il contrario, è di una lentezza inesorabile, il terrore, la paura è lentissima, scava nel profondo, non è uno scoppio, è una roba che ti consuma e consuma milioni di persone quotidianamente, noi abbiamo la fortuna di andarci in Ucraina per coprire la guerra ma anche di poter tornare, invece dopo un anno ci sono 40 milioni di persone che sono bloccate lì e poi un'altra preoccupazione è raccontare queste cose al di fuori perché noi stiamo creando una generazione di persone, 40 milioni di ucraini e non so quanti milioni di russi accecati dall'odio, perché le guerre provocano questa cosa qua, l'odio più profondo. Non ti preoccupare ma io non ti ho fatto nessuna domanda, noi mettiamo qui delle cose, allora visto che hai citato, no? No! Scusi, Alecass, DJ, puoi alzare un po'? Perché in terza fila non si sa. Proviamo così? Così? Sente? Ok, era colpa mia che non tenevo vicino il microfono, ci sarò più attento, grazie. Allora, visto che citavi l'Alexia, io tu la metti in esergo, i libri quando sono precisi hanno sempre la nota in esergo che è giusta e io ve la leggo, sono stata definita scrittrice delle catastrofi ma non è vero, io cerco continuamente parole d'amore, l'odio non ci salverà, solo l'amore è la mia speranza. Io vi leggo questo esergo perché, ne parlavamo poco fa con Monica, c'è un'intervista che è uscita la settimana scorsa, domenica scorsa, su Robinson, proprio all'Alexievich, fatta da Ezio Mauro e c'è un punto, è un'intervista molto bella e molto drammatica, c'è un punto in cui invece lei è come se a questa cosa qui non ci credesse più. ha la possibilità di raccontare l'amore, anche se poi di fatto lo fa perché continua a scrivere, però dice che davvero in Russia esiste un odio profondo, è quello che dicevi tu, così come esiste in Ucraina e forse il punto del mondo di domani che dobbiamo porci, tu lo dicevi perfettamente, è questa eredità qui, cioè che si sta creando un mondo dove ci saranno 44 milioni di persone, ma molte di più, che provano un odio indelebile. Alexievich parla di questi soldati, a me ha molto colpito quel passaggio di soldati ucraini che dicono ai prigionieri russi chiamate a casa, parlate con le vostre famiglie e quando i prigionieri lo fanno sentono dall'altra parte della cornetta le mogli di quei prigionieri che gli dicono ammazzate gli ucraini, ammazzali, ammazza anche i bambini, questa cosa io non so come la potremmo risolvere, però mi serve per farti questa domanda Monica, perché il tuo libro è pieno di calore, questo non lo so che cosa ci dice della speranza sulla natura umana, però di certo è un libro pieno di persone che continuano a volersi bene, che continuano a voler bene a te, che ti offrono il tè, che ti offrono i pasticcini. È passato però un anno, anzi un anno e più da quello che tu racconti, allora secondo te, perché tra l'altro ci sei tornata poi in Ucraina, qualcosa è cambiato di quella resistenza che ha appassionato tutti noi degli ucraini, anche se nei fatti non sembra che niente cambi, perché la resistenza è ancora forte, gli ultimi fatti lo dimostrano, però nel cuore delle persone, nella loro capacità anche di non lasciare che l'odio semini e metta radici, qualcosa è cambiato e se sì di chi è la colpa? O forse colpa è una parola sbagliata, però forse invece di responsabilità noi sul nostro divano occidentale dovremmo parlare. Eh sì, purtroppo è cambiato tantissimo, nel senso che la resistenza è fortissima, forse ancora più forte, però ha dei colori diversi, ha dei colori più, diciamo, ci sono dei punti che io individuo, io sono stata quattro volte per lunghi periodi abbastanza divisi nel corso dell'anno. Nel momento in cui i sospetti delle atrocità russe compiuti sui civili, perché sui militari è un discorso molto diverso, ci sarebbe da aprire un altro capitolo ma non lo apriremo, ma le atrocità commesse gratis sui civili, cioè non c'era bisogno di tutta questa violenza, sono diventate non solo pubbliche, ma sono state provate, confrontate anche con ricerche, analisi sul campo di ONG molto molto autorevoli. I sospetti degli ucraini, anche quelli che non le hanno subite direttamente, perché una parte dell'Ucraina per fortuna è stata risparmiata dalla testimonianza diretta a parte delle bombe dei missili, però la parte più occidentale non ha avuto l'occupazione per esempio, quindi non hanno sperimentato direttamente cosa vuol dire l'occupazione. Ma quando casi come Buccia, Zaporizia, Izium, Cernihiv, le fosse comuni, gli stupri sistematici, strategici, ordinati, nel senso o perlomeno passati sotto un occhio chiuso di qualche comandante, però diventano sistemici come arma su un territorio, non possiamo neanche arrabbiarci con gli ucraini se questa resistenza si è trasformata da una resistenza di cuore, di più orgoglio che odio, in una resistenza di odio cieco. Adesso che sono venute fuori tutte queste cose e tutti lo sanno e sanno cos'è successo e diciamo c'è sempre il calore, ma c'è la differenza chiara fa buone e cattivi. E un altro passo che a me ha molto colpito, ancora più negativo, è che è passato troppo tempo per scusare i parenti russi, gli amici russi, i russi che stanno al di là del confine perché loro dicono dopo un anno va bene che voi siete in una lettatura quindi non arrivate a conoscere la realtà dei fatti però continuate a negare cose innegabili, quindi avete colpa anche voi. Purtroppo il passaggio c'è indietro non si torna da questo cambiamento radicale profondo degli ucraini e come dargli torto, come non essere empatici anche con questa reazione. Infatti tornando al discorso di quello che possiamo fare noi invece di replicare anche in Italia per esempio con tifo da stadio e posizioni secondo me indifendibili, alcune posizioni che io sento, ma che poi arrivano alle persone, per esempio un osso tipografo l'altro giorno è venuto a dirmi, però io do ragione Orsini, meglio un bambino sotto le bombe che un bambino morto. No, cioè meglio un bambino sotto la dittatura che un bambino morto, meglio un bambino sotto le bombe che un bambino morto. La cosa che a me ha colpito in maniera molto forte è che chi ha sperimentato una forma di dittatura è pronta a morire per non caderci di nuovo in mezzo. Quindi tornando invece al dibattito italiano che tira in ballo delle categorie valoriali completamente a storiche, a testimoniali, perché poi la maggior parte delle persone che pontificano non sono neanche andate un giorno a vedere quello che sta succedendo e che chiamano in causa altri temi che in questo caso comunque distolgono solo l'attenzione. Secondo me dovremmo riportare il dibattito da una parte sulla realtà dei fatti e dall'altra com'è che siamo arrivati a questo punto? E come siamo arrivati a questo punto? Con indifferenza, perché quelli che oggi salgono sugli scranni a dire è l'Iraq, è l'Afghanistan, è gli americani, hanno ragione, gli americani ne hanno fatte di ogni, ma come ci siamo arrivati? Dove erano quando noi raccontavamo queste cose e alcuni magari protestavano, si interessavano, parlavano di questo oppure no? Quindi l'indifferenza è una delle fonti anche di questa, secondo me, indifferenza passata, di questo scardinamento un po' valoriale, un po' miope del dibattito invece in Italia che a me quando ero lì mi ha colpito tantissimo perché mi sembrava una cosa psichedelica quasi, non riuscivo proprio a capacitarmi, soprattutto i primi tempi della guerra, ormai non posso neanche più negarlo, i primi tempi della guerra nel primo mese mi insultavano anche su Facebook perché dicevano, ah tu stai raccontando palle, non è vero che stanno bombardando gli obiettivi civili, stanno bombardando, hanno dei missili tattici e bombardano sulle infrastrutture militari e io stavo davanti un ospedale completamente raso al suolo e non vale neanche più la forza testimoniale in questo caso perché diventa un nebbiamente ideologico, non lo so, ancora non ho capito cosa sia successo e quale sia la motivazione dietro questa, di nuovo, ondata d'odio, cioè è di nuovo un'altra cosa che spinge le persone a alzare barricate, a combattersi e a opporre violenza ad altra violenza o indifferenza, cioè quindi è l'angolo dell'ottimismo perché è un po' triste e poi tu hai detto un'altra cosa, faccio il giro largo, dello sguardo delle donne, abbiamo citato Matilde, abbiamo citato Svetlana, io vorrei che ci fossero, non perché sono donna, forse anche sì, sempre più inviate di guerre femminili, ce ne sono tantissime, io ho lavorato tantissimo, come tu ben sai, con Francesca Mannocchi, ho incontrato in momenti molto drammatici Stefania Battistini di Rai Uno e io trovo che lo sguardo femminile della guerra sia il migliore sguardo che possiamo avere perché a noi il testosterone non ci tocca, cioè ce ne frega niente e invece questo fanatismo, non fanatismo, adesso magari ci sono dei colleghi ma è pieno di uomini, però vogliamo fare, ma c'è una prevalenza femminile, quindi va bene, no però guardare il baratro è affascinante, sicuramente l'adrenalina, soprattutto sopravvivere al baratro, torni e ti senti un semi eroe perché dici wow sono sopravvissuto, però bisogna stare attenti perché raccontare solo quella parte lì poi si finisce nella nemesi di Svetlana Alexievici, quindi raccontare la guerra quasi come fosse un videogioco adrenalinico mentre invece non lo è per niente. Ti faccio fare un passo indietro sulla parola che hai usato prima, indifferenza, perché so e vorrei che lo raccontassi anche ai tuoi lettori che la questione dell'indifferenza ti è stata spiegata quando eri molto piccola da una persona di una certa rilevanza e vorrei sì, invece secondo me è un bellissimo aneddoto che adesso ti prego di raccontare sì, allora ha fatto la spia sì, ho fatto la spia no, il tema dell'indifferenza è un tema che mi ha sempre molto colpito e che credo di aver capito solo in maturità, cioè ieri praticamente no, quando ho letto ero alle elementari, no alle medie, seconda terza media, l'insegnante di lettere ci aveva dato da leggere se questo è un uomo di Primo Levi, l'avevo letto e ho detto ma com'è possibile, la domanda comunque continua a non essere risposta neanche adesso, com'è possibile che ci siano delle persone così cattive come i nazisti? Cioè i nazisti sono proprio cattivi e quindi non ho trovato niente meglio da fare che scrivere a Primo Levi che fra l'altro abitava a Torino, quindi ho guardato sull'elenco telefonico e ho scritto caro Primo Levi, ho letto il tuo libro e questa non è una gran notizia, la gran notizia è che mi ha risposto, mi ha risposto il 25 aprile fra l'altro, nell'ultimo anno di vita purtroppo e la sua risposta che io ovviamente non avevo capito, l'ho capita poi dopo, infatti l'avevo messa da parte e ha detto, chissà cosa, non mi ha veramente risposto ma aspettavo una cosa un po' più da bambini, sì loro sono cattivi, no, la sua risposta detta in sintesi, non la sua memoria purtroppo, era che in realtà non ci sono cattivi che nascono cattivi ma ci sono indifferenti che permettono che la storia prenda una piega di questo genere e questo tema dell'indifferenza che è esattamente il contraltare più esplicito dell'impegno civile ma anche solo di conoscenza, secondo me deve essere proprio un po' un faro che ci guida, l'impegno non vuol dire che uno deve prendere, andare a combattere, a fare il volontario, anche solo a leggere o a cercare di capire, a informarsi, a prendere anche una posizione, cioè a non rimanere inerme di fronte a quello che noi pensiamo sia un'ingiustizia l'indifferenza è quello che anche ha portato a probabilmente a non considerare una situazione come quella fra Russia e Ucraina che già dal 2014 non se la passano molto bene come potenzialmente esplosiva e come potenzialmente di necessaria attenzione almeno ha detto vabbè finché si ammazzano un po' nel Donbass tutto sommato magari possiamo contenerla, così come esattamente sta succedendo a Gaza, a Gaza siamo un po' più attivi, un po' più presente, un po' più scandalizzati probabilmente, come sta succedendo in Sud Sudan, come sta succedendo per i Rohingya, cioè mantenere, non possiamo affliggerci ovviamente ogni giorno con tutte queste cose, se no diventiamo, ci incartapecoriamo nel pessimismo e nella tristezza, però mantenere un po' la direzione della partecipazione almeno emotiva, intellettuale e di conoscenza rispetto a quello che ci circonda, perché ormai sappiamo benissimo che la connessione, globalizzazione della geopolitica è talmente estrema che ci riguarda tutto e in ogni posto del mondo, qui non possiamo far finta niente. Grazie. Allora, io non lo so se, adesso ti faccio una domanda da totale ignorante, io il tuo libro l'ho letto proprio da cittadina, quindi da lettrice di giornale, mi sembra però di aver, e c'è una cosa che Anna Zafesova scrive nella prefazione, cioè dice Monica ha attraversato questo conflitto e la parte dell'Ucraina che è riuscita a raggiungere mettendosi di fianco a un popolo che ha un'identità in divenire, perché questo è il punto vero e forse la cosa più forte e affascinante di questo libro e la cosa che coglie, che secondo me è fondamentale, è una delle cose fondamentali in questa guerra, cioè c'è un popolo che a un certo punto ha messo tra parentesi qualcosa che gli è stato imposto di essere e ha scelto di andare da un'altra parte e questa è la punizione della Russia. Vediamo se io ho capito bene, no? Voi volete andare verso l'Occidente o volete andare verso un'identità che non è più quella della Russia, del grande continente russo e quindi noi vi invadiamo perché siete nostri. Te l'ho detto Fordammis, allora però è Fordammis che vorrei che tu, cioè ha dei Dammis, anzi la Dammis sono io, vorrei che mi rispondessi perché di tutto il grande dibattito poi che si è fatto intorno a questa guerra, questo è stato un punto cruciale, no? L'Ucraina, perché tu lo scrivi a un certo punto ho capito che paese è l'Ucraina, allora che paese è l'Ucraina? Che identità stava cercando di raggiungere quando la guerra è arrivata a impedirglielo? E verso quale identità continua a tendere? No, è molto affascinante, molto affascinante come tema perché io l'idea che mi sono fatta parlando soprattutto prima della guerra, perché prima della guerra era una situazione anche più facile per sedersi a un bar, in un caffè, chiacchierare con i ragazzi giovani oppure con quelli che magari avevano fatto delle battaglie civili all'inizio del 2000 eccetera. La mia idea è questa, che sia grazie a Putin se l'Ucraina è l'Ucraina, l'identità ucraina così forte, un nazionalismo così forte che poi è stato strumentalizzato chiamandolo un nazionalismo fascista, i nazisti dell'Azov, sì i nazisti dell'Azov, vabbè, sì, se andiamo in una caserma della Folgore credo che siano ben peggio dei nazisti dell'Azov. Detto questo, l'idea che mi sono fatta è che il vero punto di svolta per l'Ucraina, per l'identità ucraina di un popolo in formazione che ha fatto una fatica incredibile perché è stato conquistato, è un po' come la Polonia, sono i paesi che seguono i paesi più sfigati dell'Europa perché sono stati invasi a ripetizioni e sottomessi prima da una parte e poi dall'altra. La Finlandia per esempio che è stata anche lei nella seconda guerra mondiale finlandizzata ha trovato una strategia un po' diversa ma è un altro di quei paesi che hanno subito tutto il contrario di tutto. Per tornare all'Ucraina l'idea che mi sono fatta è che l'Euromaidan sia stato il primo punto in cui l'Ucraina ha combattuto contro qualcosa e per qualcosa, è sempre facile crearsi un'identità quando devi difenderla, magari ce l'hai lì ma non hai bisogno di difendere da nessuno, se qualcuno l'attacca però è lì che viene fuori con tutti i suoi contorni, la precisione. Dopo l'Euromaidan il percorso dell'Ucraina era un paese corrotto, è un paese con una democrazia super imperfetta, quale paese ha una democrazia perfetta? Poi bisogna vederlo però la loro è molto giovane come democrazia, le istituzioni fanno ancora molto fatica, ci sono molti oligarchi quindi non era un paese perfetto, ma era un paese che aveva scelto da che parte stare e poi qua verranno a dirci che l'Euromaidan è stata un'operazione della CIA, la manipolazione, siamo tutti manipolati in un senso o nell'altro, un'intera nazione che a un certo punto decide di non essere più soggiogata a un certo tipo di dittatura che ha sperimentato, è della stessa cosa dei paesi baltici, Estonia, Lituania eccetera, comunque una scelta da rispettare, loro volevano andare verso quell'idea lì, cioè quindi la Silicon Valley era per loro, le tecnologie anche perché un paese molto rurale soprattutto nella parte dell'est, i giovani quelli che stanno lì hanno puntato tutto sul cloud, cioè il lavoro che si può fare nelle nuove tecnologie e quello puntavano, a un certo punto però secondo me non è proprio uno stimolo reazione, visto che l'Ucraina vuole andare verso l'Europa, Putin la invade se la vuole portare indietro. Secondo me quello che sta succedendo in Ucraina è uno scontro fra due imperialismi, uno un po' più soft, meno uno che non usa le bombe in Ucraina diciamo e uno che le usa. Putin ha sbagliato completamente, ha sbagliato strategico, si è andato a ficcare in un cul de sacche incredibile, lui pensava di finire la guerra in settimane e portarsi a casa l'Ucraina. Secondo me è la natura stessa dell'imperialismo, di quell'imperialismo lì di Putin, perché poi appunto altre forme, vediamo anche l'imperialismo economico cinese ma apriremo 600 mila parentesi, e la voracità e come l'imperialismo ha bisogno, lo spiega anche molto bene Vassili Grosman che è un russo quindi, ha bisogno di territori o soldi da inglobare per sopravvivere, se non muore si atrofizza. La mia idea è che la guerra in Ucraina non sia che un proseguimento delle guerre in Cecena e della guerra in Georgia, cioè Putin ha bisogno di prendersi altri pezzi di territorio, perché se no il suo imperialismo muore, poi magari ci sarà anche una componente ideologica, non entro nella sua testa perché è un po' difficiletto, e il problema è che ha sbagliato completamente calcoli, ed è questo il problema in cui ci ha ficcati anche perché mi pensavo di risolverla in due settimane, siamo un anno e tre mesi, insomma, ho fatto un casino incredibile. Visto che ci fai queste citazioni altissime, esatto, però no, perché mi viene in mente ovviamente vita e destino, ma c'è una frase, tra l'altro me l'ero segnata, che tu scrivi a un certo punto, dici, ho capito che la guerra può essere un destino, che è una frase complicata proprio da accettare e da assimilare, che cosa volevi dire? Perché la dici a un punto preciso del libro, in cui raccogliano, adesso lo ritroviamo, però sei a Zaporigia quando lo scrivi e stai cercando Marta, se vuoi raccontare anche questa storia, perché a un certo punto tra le tante richieste bizzarre che le arrivavano dall'Italia, in particolare, no, questa non ti arrivava dal giornale, no, si ti arrivava da un collega, dal collega del giornale di Como, però ecco, il giornale poi le chiedeva a un certo punto di trovare un contraddittorio, anche se non c'era una cosa che serve, no, molto ai giornali e che fanno fatti, a volte ce lo inventiamo il contraddittorio, perché a volte non c'è e sappiamo che dobbiamo provare a farlo emergere perché altrimenti veniamo accusati di fare un racconto piatto delle cose, ma a volte le cose non hanno tante letture, ne hanno una soltanto e a volte nei posti, come in Ucraina, diciamo, ci sono delle persone che hanno un'idea che è fissa e compatta. Però ecco, che cosa volevi, se ci vuoi raccontare la storia di Marta, però è la seconda parte di questa risposta che ti prego di darci, che cosa significa che la guerra può essere un destino? Ci sono diversi paesi che noi non conosciamo, non pratichiamo tanto, parlavo prima della Finlandia che confina con la Russia, ma adesso non voglio diventare una russofoba, cosa che non sono assolutamente. Diciamo che è un mondo molto violento e molto di contrapposizioni di interessi fortissimi, economici, politici. Sotto ci stanno questi, che è un po' il discorso che facciamo all'inizio. Per alcune persone basta nascere in un posto particolarmente di frizione e chiaramente le famiglie che io ho frequentato soprattutto la parte dell'est dell'Ucraina, cioè quindi tutto il Donbass. Zaporizia fa ancora parte un po' del centro-est, però è una sorta di mezzaluna, dove abitano praticamente solo famiglie russe, russofone, che parlano russo, hanno altri parenti, hanno la maggior parte dei parenti in Russia eccetera. Quando tu ti capita di nascere in posti di confine come questi, che sono confini non come il nostro a Trieste per dire, ma vediamo anche nel passato e soprattutto quando tu decidi che la tua identità si stacca da un'identità imposta, per forza deve essere preparato a un conflitto. Quello che a me ha sorpreso tantissimo è che mi ha fatto fare anche molte domande su me stessa, cioè quanto sarei io disposta a sacrificare o a rischiare la vita, i parenti, gli affetti, il benessere, per i miei principi, per i miei valori e per questo senso di magari imposto, magari finto, però quello in cui io credo c'è il volere essere libero. Perché a me ha fatto impressione perché un intero popolo che si è manipolato, a me non mi frega niente, detto proprio così, ha deciso che il suo destino sarebbe stato o morire o essere liberi. Non c'è una sfumatura in mezzo. Mi ha sorpreso questa compattezza e anche tutte le famiglie, quando tu parlavi prima che dal giornale mi chiedevano che lo scrivo anche lì, una delle cose più difficili è stata per il giornale, dicendo ma tu racconti solo la parte ucraina. Trovo un contraddittorio. Io ho cercato e cercato, a parte alcuni vecchietti, dico vecchietti non perché non capisco, erano lucidissimi, ma che avevano avuto una giovinezza e un benessere economico durante l'Unione Sovietica. Parlo per esempio di un ex dirigente di un istituto di ricerca, era un istituto di ricerca scientifica per le lavatrici, in realtà facevano missili di Kharkiv, però lui era appunto nell'intelligenza, è considerato nell'intelligenza russa, va studiato a Mosca, eccetera, e lui è uno di quelli che rimpiange l'Unione Sovietica, ma rimpiange quell'Unione Sovietica lì, la sua posizione, il suo essere considerato un gran figo e non un pensionato di Kharkiv, perché in realtà di russi che parlano russo, che hanno cognomi russi, che sono nati in Russia o in Unione Sovietica, che mi abbiano detto, che abbiano fornito un contraddittorio giornale, perché in realtà non ho intervistato ovviamente i 20 milioni di persone che abitano lì, non ne ho trovati, e sì che li ho cercati, non ne ho trovati, ho trovato russi nati in Russia e poi trasferiti in Ucraina, oppure russofoni, che mi dicevano, io sono russo ma sono di sangue russo e di cuore ucraino, punto. Forse sono stata scarsa io, ma giuro che, e poi c'è un'altra anche, punto, una delle critiche che fanno tantissime giornalisti occidentali, occidentali italiani, francesi, eccetera, è che manca questo contraddittorio, c'è la versione russa, perché non andate dall'altra parte? Ma dall'altra parte ci sparano, cioè non è che possiamo scegliere di stare due giorni magari a Kherson liberata e poi fare un giro nel centro di Donetsk, oppure insieme ai soldati russi, cioè non è proprio così semplice. Tanto è vero che abbiamo visto anche giornalisti espulsi, bloccati, insomma, non è che non vogliamo raccontare anche l'altra parte, proprio c'è impossibile. O racconti solo quella parte lì, ci sono colleghi che hanno fatto solo quella parte lì, oppure racconti l'altra parte. Ok, a proposito dello stare lì e raccontare, un'altra cosa che mi ha colpito di questo libro è che è come se tu non avessi mai avuto paura. Cioè, hai raccontato che cos'è la paura in guerra, ma di fondo è come se tu non ne avessi provata, non lo so, è una domanda, te lo chiedo, perché in tutto questo libro, in tutte le storie, in tutti gli incontri che racconti, è come se tu sia stata, dimmi se mi sbaglio, difesa dalle persone che hai incontrato. No, mi sbaglio, ma io ho sentito questa rete intorno a te e mi sono detta che forse questa è una delle risposte a ho capito che cos'è l'Ucraina. E non lo so se dipende dal fatto che vedevano in te, tu lo scrivi a un certo punto, una persona che doveva raccontare quello che stava succedendo, che è una cosa ovviamente ovvia, logica, immagino succeda in tutte le guerre. Non lo so se però è così, si ovvia, ma non lo so quanto automatica. No, infatti, allora, c'era una rete di protezione e di solidarietà enorme e c'è stata proprio anche un'immediata riconoscenza che gli ucraini ci hanno riconosciuto, credo per la prima volta in tutta la mia carriera, di fare un lavoro utile. Loro si sono sentiti dimenticati dal 2014, tanto è vero che in effetti il fatto di avere qualcuno che raccontasse anche le loro storie e quello che stava succedendo ci hanno trattato come se fossimo quasi degli eroi perché loro sapevano benissimo che noi lì non avevamo nulla da guadagnare nel senso noi che dovevamo difendere le nostre case e quindi noi in quello sono stati sempre molto solidali. Negli ultimi tempi le cose sono un po' cambiate perché sono stanchi e sono anche molto paranoici perché sono arrivati tantissimi sabotatori, ormai la situazione è veramente tesissima e tantissimo odio da una parte dall'altra dopo un po' di obnubile anche, però continuano a essere, cioè a me hanno nutrito l'ultima volta che sono andata a febbraio, sono andata a Creminna che sta dietro Bakhmut, a Yampil e a Bakhmut e le signore che vivono in metà casa, ancora erano lì, questo non c'è nel libro, purtroppo era uscito prima, le signore novantenni, le mie babushke, che vivono in metà casa ma ti danno i biscottini Maria, i biscottini Maria li devi assolutamente mangiare, tu dici scusi ma mi tenga lei che magari ha fame, no 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 assolutamente, c'è questo senso di collettività, di relazioni sociali molto forti, molto forti nelle parti dell'Ucraina di cui sto parlando, non sono le grandi città, sono le parti più rurali, quindi la cultura contadina della solidarietà reciproca, dell'aiutarsi è fortissima e poi sulla paura, io credo solo di avere un, sono una maniaca del controllo e quindi no, nel senso che mi sono resa conto di aver paura sentendo i battiti del cuore perché accelerano, però poi alla fine è anche un po' il fatalismo che ti prende, quello che viene anche a loro, cioè ritornando tante volte l'ultima a febbraio vedi che all'inizio quando ti scoppia qualcosa vicino fai così e adesso no, parli tranquillamente, non è eroismo, coraggio, è proprio il senso di adattamento del corpo che probabilmente si abitua a capire che non può stare in allerta 24 ore su 24 per settimane se non muori, quindi probabilmente è una reazione fisica normale. Ok, allora un'altra cosa che mi interessa visto che tu hai parlato con tantissime persone è il nostro lavoro, poi tu parli pure con i muri, quindi perché è così Monica, è così, è questa, se in queste conversazioni con loro sei riuscita a capire cosa immaginano dell'Occidente e dell'Europa a cui ambiscono. Non ricordo quanto tempo fa, ma qualche mese fa, io avevo letto un pezzettino bellissimo di Adriano Sofri sul foglio che diceva, insomma è uno che le guerre le ha raccontate, le ha viste e diceva quello che noi siamo, noi europei, noi occidentali forse non lo capiamo più ed è di certo qualcosa a cui peraltro abbiamo cominciato a disaffezionarci, ma guardando gli ucraini forse possiamo, e guardando il desiderio degli ucraini, forse possiamo capire chi potremmo diventare, cioè in fondo quello a cui ambiscono loro è il meglio che noi possiamo diventare, che abbiamo smesso di essere. E allora volevo chiederti questo, cosa incarniamo noi per loro, detto che visto da questa parte del mondo, noi che siamo quella cosa a cui loro ambiscono, faccio fatica a tirare su una grande virtù a cui qualcuno possa essere attratto al di là del fatto che siamo ancora, grazie al cielo, la parte del mondo democratica, che però insomma lo sapete bene, le democrazie adesso non affascinano più nessuno. Ecco, questo forse è il più grande regalo che mi hanno dato gli ucraini, perché mi hanno fatto ricordare delle cose che, è la fiera della scontatezza proprio, delle cose che io dico, ah vabbè sì carino, ma chissene, in realtà loro aspirano a delle cose di una noia mortale, tipo una cosa ricorrente, soprattutto fra le donne, io ho parlato molto con le donne, uno perché mi interessano di più e due perché sono le persone che stanno tenendo in piedi la società ucraina, non dalla prima linea, non come militare, ma proprio la società, quindi è anche la cultura in realtà, perché ci sono tantissime scrittrici, artiste che stanno tenendo in piedi una sorta di vita quasi normale, anche all'interno della guerra, sono tutte donne, ma nella fiera delle, non delle vanità, ma della banalità, la cosa più ricorrente è sedermi a un caffè come quelli di Parigi o di Roma e fare l'aperitivo. Dico sì, non è... ma tutte queste persone, perché appunto il crollo dell'Unione Sovietica è molto recente, molto fresca, se noi pensiamo dove eravamo negli anni 90, tu no, ma io me lo ricordo perfettamente. Ma io ce lo ricordo negli anni 90, poca roba. Però noi ce lo ricordiamo perfettamente e loro si ricordano, cioè nelle campagne dell'Ucraina ci sono ancora i nomi dei kolkots, ci sono ancora i turni con cui dovevano i turni e quanta farina, grano, bestiame dovevano dare al capo della ridistribuzione. Ci sono gli elenchi scritti nelle scuole, dei libri vietati, della storia della grande madre Russia, obbligatoria, poi appunto queste sono le cose più... i rimasugli che ci sono. Quindi vogliono delle robe che può essere anche molto superficiale, il capitalismo, a loro non importa di avere, almeno quelli che ho intervistato io, il benessere economico, ma aspirano alla leggerezza esistenziale, quello vorrebbero, anche prima della guerra, cioè poter viaggiare, poter fare l'aperitivo, non so perché l'aperitivo ricorre così tanto, forse proprio un emblema di serenità. Quindi, beh, non è che sia molta roba, le lezioni libere, anche, cioè poter si esprimere, poter viaggiare, però, l'aperitivo. Ora che dici l'aperitivo, no, fa ridere, però pensateci, l'aperitivo, adesso, vabbè, io sono meridionale, quindi, diciamo, da noi l'aperitivo è fatto da taralli e vino, però la cosa che ho imparato al nord è che invece è l'esposizione di tutto quello che tu puoi scegliere da mangiare, c'è di tutto. Forse è questo il punto, ed è anche uno dei punti dell'Ucraina, no, che è un, una coesistenza di, appunto, parlavamo, parlavamo di identità, ce l'ha nella storia, questo, questo, questa realtà composita. Allora, la mia domanda per te Monica è questa, Putin è anche quella varietà che con una parola del nostro tempo possiamo definire fluida, che sta cercando di contrastare, perché è in questo senso forse che possiamo dire, uno dei sensi che possiamo dire, che è una guerra del passato, al di là, cioè no, e non capire, e non accettare che le idee, identità sono coesistenza di tante cose, anche poco definite. Sì, nel senso che ovviamente per assoggettare qualunque leader o dittatore, per assoggettare deve avere due cose, un'identità presunta o reale da difendere e dei confini. Una delle cose che mi ha colpito di più positivamente prima dello scoppio della guerra, perché come dicevamo poi l'odio si era radicalizzato, era entrare in queste case che sembravano racconti di Tolstoy, dove parlavano tutti in russo, dove c'erano tavole imbandite di biscottini tipici ucraini, loro si vestivano con le camicie, adesso hanno un nome ma ovviamente non riesco a ricordarmi, c'era una mischia culturale, cambiavano lingua dall'Ucraina al russo molto agilmente, non era percepito, era un confine molto poroso, e questo dà fastidio ovviamente, perché non puoi giocarci con questi confini porosi, e c'era un'integrazione a mio parere, per quanto sempre è un parere ovviamente soggettivo e limitato, c'era un'integrazione talmente efficace, che non ne parlava più nessuno, cioè non era un punto di discussione, quando io a un certo punto parto per Mariupol per intervistare Caterina, che è questa ragazza artista che fa queste cose, lei russe eccetera, dico guarda io devo trovare un modo per raccontare, perché in Italia ancora si confondeva, adesso un po' abbiamo imparato, ancora si confondeva fra russofono e russofilo, che sono due mondi, però se ti ricordi all'inizio era tutta la stessa cosa, e mi dice ma in che senso scusa l'integrazione? Sì fra russi e ucraini, vabbè ma è la stessa cosa, c'è un'identità ucraina fortissima, Mariupol che l'80% sono di, ma siamo ucraini, cioè non è neanche una cosa più da discutere, poi dopo sappiamo che, a parte Mariupol che non esiste più, ma sappiamo che invece questa fluidità, questa porosità dei confini è stata rialzata. Grazie, mi veniva in mente un po' di tempo fa, Rumiz aveva detto al nostro giornale, che lui per tutta la vita, per buona parte della sua vita, aveva pensato che i confini fossero una cosa da eliminare, e poi invece si è ricreduto, forse su questo abbiamo ancora le idee, le idee un po' confuse, comunque l'altra cosa che ti volevo chiedere, a proposito di definizioni, mi sembra che ci muoviamo su cose che, no? Sembrano terremotate, che tremano, ecco. La cosa che ti volevo chiedere è, come vedi tu, questo, come hai visto, il rapport, il parallelismo tra la resistenza ucraina, e quella invece nostra, dei nostri partigiani, perché tu a un certo punto dici una cosa bella, molto poetica, però forse troppo grande nel libro, tu dici ho capito che cos'è un partigiano, l'ho capito qui, ed è una persona che sceglie di stare da una parte. Ti faccio questa domanda perché io ho molta paura di quel parallelismo tra le due resistenze, perché ho molta paura della difficoltà che abbiamo di leggere i fatti nella loro specificità, ed è il problema del nostro governo in questo momento, in questo momento, poi è stato anche di altri, di altri governi, io non voglio, non voglio fare quella che va contro Meloni, però quello che è successo per il 25 aprile è esattamente questa cosa qui, il muro contro tutti i totalitarismi che sono tutti uguali, non è così. E ci vedo in quella esigenza di dire che gli ucraini erano come noi, una incapacità di stare a fianco a qualcuno che è vittima di una sopraffazione, se in quella sopraffazione non ci ritroviamo anche noi. Dovremmo forse invece riuscire a stare vicini, a compartecipare, a provare empatia anche nei confronti di chi non ha niente di simile nella sua storia e nel suo presente rispetto a quello che abbiamo vissuto o viviamo noi. e questo lo dico anche perché quando è arrivata la guerra in Ucraina ci siamo detti che è tornata la guerra, cioè la guerra entra nelle nostre vite, ma invece di guerre ce ne sono continuamente, solo che sono molto più lontane ed effettivamente non ci permettono di fare paralleli con il nostro passato. Sì, questi sono due temi scivolosissimi. Beh, intanto... Io sto qua per metterti in difficoltà. Grazie, chiedimi una tabellina del 7. Eh beh, dopo te la chiedi. No, parlando intanto delle guerre vicino, io speravo, e la speranza è andata subito nel cestino, che parlare di questa guerra, non voglio sembrare una vetro niente, però forse lo sono, avrebbe permesso un'apertura di un dibattito serio sulla guerra, sui conflitti, e avrebbe permesso, grazie alla identificazione di colore, perché noi siamo molto più vicini agli ucraini perché sono identici a noi. Sono bianchi, molto più biondi a volte, hanno una vita molto simile alla nostra, le loro case sono identiche, guardano gli stessi film, molti ucraini vivono in Italia, quindi tutti noi conosciamo direttamente e indirettamente qualche ucraino. Io speravo che questa identificazione, per esempio, io mi sono fatta le 40 ore più difficili della mia vita cercando di uscire dall'Ucraina col fiume di persone che stava scappando. siamo tutti profughi, siamo tutti migranti, io speravo che questa identificazione con delle signore che possono essere la signora che abita vicino a noi, elegantissima, colta, che in quel momento sta camminando della neve a piedi perché non ha un'automobile per fuggire alle bombe, avrebbe aperto un po' la mente per, per esempio, parlare di migrazioni in un senso un pochino meno ottuso, un pochino meno meloniano, zott, e invece no, non è successo. Cioè, ci identifichiamo con gli ucraini, ma non riusciamo ad estendere il dibattito ed è anche un problema grosso proprio perché poi si creano queste tifi da stadio su un tema senza guardare poi la complessità del mondo in cui stiamo vivendo. La seconda cosa sono i partigiani. Ci sono state, l'avrete forse seguite, io le ho seguite particolarmente perché per me i partigiani sono degli eroi e quando l'Ampia ha iniziato a fare delle differenze dicendo però i partigiani italiani sono differenze differenti dai partigiani ucraini, un po' mi è crepato qualcosa nel cuore perché secondo me tu volevi tirarmi su con un ragionamento intelligente io invece vado per la semplificazione secondo me alla fine io ho visto delle persone normali che potremmo essere noi che imbracciano per la prima volta un'arma chissà se noi faremmo la stessa cosa se succedesse una cosa simile anche a noi questa è una delle grandi domande che continuo a portarmi dietro e a un certo punto scelgono da che parte stare stanno contro Putin, l'invasore, l'oppressore eccetera il fatto che il partigiano si appannaggio solo di una fede politica io lo trovo ingiusto certo se sei una vittima di un'invasione ti stai difendendo per guadagnare la tua vita per come la vuoi tu se tu decidi un popolo decide che da lunedì vogliono vestirsi tutti con il tutù rosa perché gli piace o gli vogliamo far mettere il tutù o dobbiamo impogli il pantalone a zampa che ne so per dire quindi questo è un altro tema molto scivoloso fra l'altro prima o poi ne parlerò con qualcuno del Lampi perché mi piacerebbe anche capire che cosa può averli offesi di questo uso della resistenza fra l'altro i giornali chi ne ha scritto ne ha parlato mi sembra che abbia fatto molta attenzione a parlare di resistenza con la R minuscola e partigiani con la P minuscola cioè è una forma diversa che è comunque una forma diversa di resistenza questo mi sembra innegabile quindi io la tengo proprio bassa come discussione cioè non chiamerei in causa troppe troppe altre componenti grazie io non so che ore sono ma io continuo tra non voglio che diventi un sequestro ditemi perché voglio lasciare anche la parola a voi quindi siamo in tempo abbiamo sforato no possiamo continuare allora se ci sono delle domande siamo qua Monica è qua altrimenti vado io mi interessa qual è stata è una domanda scema però ti piace qual è stata la cosa più difficile da raccontare per te dentro il libro e soprattutto se hai perché io penso che io qui trovo Monica trovo la narratrice che conosco sul giornale non ho visto una grande differenza ho usato la parola narratrice e non giornalista perché secondo me io non penso che il giornalismo non abbia a che fare con la letteratura ma penso che soprattutto per le cose che racconti tu non solo per le cose che racconti tu ma soprattutto ci sia bisogno di unire le due le due discipline chiamiamole così forse sono due parole incongrue ma è una parola incongrua ma non è importante ecco com'è stato se è cambiato nel libro il tuo modo di raccontare quella guerra rispetto a quello che hai fatto sul giornale al di là delle diciamo costrizioni a cui un giornale ti obbliga il tempo lo spazio tu lo racconti qui anche a un certo punto povera Monica non sapeva come scrivere materialmente un pezzo perché era in mezzo al disastro ma allora spero che lo stile sia un po' migliore dei pezzi buttati giù perché poi appunto la difficoltà c'è una difficoltà emotiva molto molto tangibile nello scrivere di una guerra per un giornale che uno non ci pensa mai ma tu ti svegli al mattino a parte con l'ansia di essere ancora viva e ringrazio il giorno che sei ancora vivo e nella notte non è crollato tutto ma no hai l'ansia di dire e oggi cosa racconto dove vado devi uscire compatibilmente con la situazione con la contingenza e poi devi raccontare con ritmi molto serrati una storia al giorno per molti giorni di seguito quindi quindi spero che lì sono cambiate fondamentalmente due cose uno che ho dato sfogo a quello che non potevo scrivere per motivi di spazio ma soprattutto per motivi di decenza su un giornale e due decenza nel senso che ci sono delle cose molto pesanti allora io ho sempre cercato di dare la mia visione che sempre a me non interessa tanto raccontare se l'offensiva sono state in prima linea diverse volte insieme ai soldati diverse volte a prendermi le bombe non mi interessa perché visto una dico una cosa tremenda però visto una bomba le hai viste tutte non è che cambia niente quindi alcune cose si ripetono abbastanza uguali a me interessa raccontare le persone per decenza perché mi hanno costretto a farlo in prima persona secondo me il giornalista non deve mai mettere se stesso dentro i pezzi quindi io spero di aver sempre dato sul giornale una visione molto asettica molto professionale di quello che stavo facendo e soprattutto non ho mai espresso giudizi i giudizi sul nonostante una delle cose più difficile nello scrivere è che sei arrabbiato dal mattino alla sera perché tu scrivi e dici no ma non è possibile io continuo ad avere a un anno e quattro mesi dopo quattro volte diverse persone l'elaborazione di tutto eccetera una rabbia per la totale irrazionalità che rappresenta una guerra continuo a non accettarla sta cosa non riesco posso capire tutto da un punto di vista razionale però poi arrivo a un punto e dico no non è possibile la cosa più difficile da raccontare sono stati dei dettagli perché è un romanzo ma noi non siamo capaci di inventarci niente quindi dei dettagli su delle in realtà non delle cose violente abbiamo visto di tutto ovviamente potete immaginare cosa si vede in una guerra che viene combattuta come una guerra una prima guerra mondiale perché poi appunto sembra tutto molto assettico non lo è puzza da morire c'è sangue ovunque però la cosa che ho fatto più fatica a raccontare e che nel libro sono riuscita a raccontare un po' meglio è il dolore perché il dolore è quello che accompagnerà me che sono stata testimone ma in una misura infinitesimalmente minore ma delle persone che hanno subito delle ingiustizie e che non ha avuto neanche è questo che mi fa rabbia neanche l'onore delle armi perché se tu combatti e muori combattente secondo me forse è più facile accettare la paura quello che hai di fronte se tu sei solo vittima nel senso che a un certo punto parlo di questa ragazza ovviamente ho cambiato i nomi perché non non mi va di di raccontare è una una ragazza una madre molto giovane che è stata stuprata ripetutamente da i ceceni nel Kerson e l'ho raccontata per come me l'ha raccontata lei mentre sul giornale e anche con le cose che mi ero tenuta per non affondare troppo proprio per l'idea che uno dice se uno sceglie di leggere deve prendersi anche il coraggio di leggere i fini di infondersi e di prendersi tutto il marcio che vuol dire fare delle cose del genere e quindi se un po' di censura se n'è andata e poi soprattutto ho raccontato le cavolate perché un'altra cosa stavo per dire bella della guerra una cosa oltre alla solidarietà che ti rende sopportabile la guerra è che la vita continua la vita le risate credo di aver mangiato la miglior pizza degli ultimi dieci anni nel Donbass a Bakhmut quindi una pizza in un locale che si chiama Corleone e poi tutto è un posto fantastico con accanto i giornalisti del New York Times che passeggiavano col cappuccino una cosa veramente pizza e cappuccino per dire che nella tragicità della guerra visto che l'ho dovuto raccontare in prima persona e visto che non ho paura come di far vedere quanto siamo ridicoli anche noi giornalisti di guerra che nelle trasmissioni televisive sembrano sempre di fighi senza paura di niente non è vero niente facciamo delle cose che Fantozzi in confronto è un ingegnere e ridiamo anche molto e si ride anche molto con gli ucraini perché la vita va avanti c'è la forza della vita è una roba incredibile probabilmente è stata una grande esperienza per rivalutare mi ha fatto rivalutare la forza delle parole c'è il peso delle parole che sono esplose e la forza degli aperitivi o delle pizze Corleone è una roba incredibile no c'è una parte infatti del libro in cui Monica Monica scrive che ci sono alcune parole che noi diamo per scontate e non solo ma ci sono delle parole che sono abusate hanno perso senso o peggio ancora quando qualcuno le dice ci infastidiscono perché sono cariche di retorica invece tu scrivi questa cosa che mi ha molto colpita la guerra fa tornare alcune parole a essere scintillanti come libertà no? è vero la parola libertà noi così quasi ci dà fastidio è uno dei problemi veri delle democrazie esatto ma forse perché sembra quasi fallita no? è vero che è un grande è una grande tensione quella della libertà perché di fondo ce n'è dato un pezzettino ma forse noi ci dimentichiamo invece quanto quanto è importante è nella guerra ti chiedo se è un anelito o se è qualcosa che sperimenti che esiste pratica nella pratica no? cioè nella vita così come dire ristretta che si può avere è fatta di poche domande e di molto di sopravvivenza ti chiedo se effettivamente ti sei resa conto di essere più libera per certi aspetti e lo so è una domanda un po' sto dicendo una cosa un po' brutta è bella è bellissima la domanda e soprattutto è bellissima la risposta perché visto che stai in una situazione e assieme a persone che fanno tutto quello che fanno dal primo respiro all'ultima cosa che fanno alla sera per difendere qualcosa inizi a interrogarti intanto che è sta cosa e io in che misura ce l'ho questa cosa che chiamiamo libertà e a me viene da ridere cioè viene da ridere perché sia quando ero lì che quando poi sono tornata se non fosse ovviamente la butto lì come provocazione farei delle visite guidate di una settimana in Ucraina per tutti quanti per capire quanto accidenti è meravigliosa la libertà ma anche la libertà minima quindi quando vai in un posto del genere e vedi delle persone che rispolverano tutte le parole la libertà l'amore la lotta anche cioè quando è l'ultima volta che abbiamo combattuto con tutto noi stessi per qualcosa è una un'aspirazione vitale un l'elan vital Bergsoniano ha detto l'altro che no però è vero cioè ti fa e quindi ti senti anche un po' in colpa quando sei lì perché dici ma guarda te che io mi sono incavolata l'altra sera perché mi hanno parcheggiato in doppia fila anche questa è una banalità se ne dicono tanti di banalità quando vai in guerra perché sono le stesse parole che usiamo con indifferenza ma hanno acquisito un peso completamente diverso e quindi se questa libertà se quello che per cui stanno combattendo gli ucraini a un certo punto arriverà e questo vorrei anche dare una nota positiva a tutto quest'odio sarà un successo a tutto quest'odio di cui stavamo parlando prima sarà un successo e una conquista talmente enorme talmente scintillante che forse riuscirà a illuminare anche tutte le ombre che crea invece la violenza perché è proprio fortissima è incredibile la senti anche da un punto di vista di energia nell'aria adesso sembro il guru yoga però permia tutte le azioni tutti i corpi tutti gli sguardi ma delle persone più insospettabili l'ultima per esempio che è stata bombardata due giorni fa fra l'altro la casa è crollata era una signora che aveva un negozio di gomitoli che adesso fa la staffetta di uso un altro termine comunque porta messaggi da un avamposto della difesa territoriale agli altri ma ha già 60 anni che sta facendo delle magliette ricamate a mano con su scritto libertà in ucraino e le regala ai passanti cioè sono tutte queste forme di anche la vita stessa torna a splendere insieme a tutte le altre paroline che utilizziamo grazie mi sembra una chiusa perfetta abbiamo dato anche una nota di speranza sì grazie grazie Grazie.